La posizione del Comune credo che diventerà una posizione forte e molto combattiva, sicuramente esprimo il mio fortissimo dispiacere, la mia fortissima contrarietà a quanto è avvenuto. Senza entrare nel merito delle questioni ricordiamo che abbiamo una gara in atto che dovrebbe concludersi stamattina e durante una gara in atto per vendere e per alienare le quote del Comune di Oristano il Presidente dei Marini Oristanesi non trova di meglio da fare che far esercitare il diritto di prelazione da parte del circolo nautico e il circolo nautico non trova di meglio da fare che acquistare a circa 20 mila euro le quote del Comune di Oristano che invece sono in gara a 167 mila euro. Queste sono le notizie che io ho dai giornali perché l'altra cosa stupenda è che il Comune di Oristano, nel Sindaco, negli Assessori, nessuno è stato informato di questo perché chiaramente noi non contiamo niente e chiaramente siccome rappresentiamo i cittadini di Oristano il Presidente dei Marini Oristanesi che è nominato dal Comune di Oristano invece chiaramente rappresenta tutte queste cose. Quello che dispiace è che nella vita bisogna sempre avere dei dubbi, bisogna sempre mantenere degli atteggiamenti corretti e in questo caso mi sembra che qualcuno il dubbio non se l'è messo, noi ce li siamo messi tanti, anche negli errori che possiamo aver fatto e probabilmente la correttezza nei confronti del Comune di Oristano e soprattutto della città e dei cittadini è assolutamente mancata. Si va in giudizio? Ma noi abbiamo fatto una delibera ieri notte, appena sapute altre cose, perché la cosa comica è questa, di tutte queste cose ci si poteva sedere, si poteva informare, c'è stato tanto tempo per discuterne e quindi invece in fine di asta si decide di fare una cosa del genere e addirittura qualcuno che può esercitare un diritto di prelazione in 30 giorni lo esercita dopo 12 ore, quindi siccome io alle favole non ci credo c'è sicuramente qualcosa di ben chiaro e ben programmato, il Comune sicuramente ieri ha fatto una delibera dando in carica un legale a 360 gradi di studiare la strategia migliore per difendere gli interessi della città, non certo del sindaco o di qualcun altro. Ieri è stato duro, il consigliere di opposizione Fisio Sanna ha parlato di pressa pochismo. Il consigliere Fisio Sanna probabilmente vive in un altro Comune, io gli consiglierei di girare per la città, di andare nelle frazioni a parlare con la gente, di vedere che questa giunta fa tanti errori, però lavora, si confronta e soprattutto quando sento parlare di nulla veramente ripeto, probabilmente il consigliere Sanna vive in un'altra città. Chi cerca di lavorare non ne fa errori, noi errori ne facciamo molti, io sono molto critico verso la mia giunta, verso il mio comportamento, però dire che non facciamo nulla fa veramente ridere, è una falsità assoluta. Basta vedere cosa succede a Torre Grande in questi giorni, basta vedere cosa succede negli spettacoli. Se oggi fosse venuto con me in Commissione per il Palazzetto e lo Sport avrebbe visto che siamo riusciti tramite dei nuovi finanziamenti a mettere il rimedio alle incompiute create da loro, tra cui il Palazzetto e lo Sport. Quindi non è mia abitudine criticare o attaccare, mi prendo le mie responsabilità, quando sento parlare di nulla io consiglio al consigliere Sanna di farsi un giro nella città, di parlare con la gente, di vedere i cantieri che sono aperti, di guardarsi le delibere, di vedere che ieri abbiamo approvato il riequilibrio in termini, in una situazione di grave crisi al contrario di quello che hanno fatto loro, che è venuto un commissario a provarglielo.